Oggi stiamo facendo un trattamento nuovo, che è un trattamento con i fanghi del mar morto. Dorina mi ha impacchettato per bene e adesso dovrò aspettare una mezz'ora e poi farmi la doccia. È la prima volta in vita mia che prego un trattamento del genere, quindi sono veramente molto curiosa dei risultati. Ho appena finito il massaggio e devo dire che le mie gambe sono sgonfissime rispetto a quando sono arrivata e sento al tocco la pelle un po' più morbida, è veramente una situazione piacevolissima. Grazie a tutti.